Gli scienziati sono stupiti da ciò che i cachi fanno al corpo Il cachi è un prodotto incredibilmente utile che appare nella nostra casa alla vigilia dei primi raffreddori Che meraviglia poterlo godere! Sembra che il cachi abbia trattenuto tutto il calore del sole e sia venuto al nostro tavolo per condividerlo con noi I benefici dei cachi per il corpo I nutrizionisti di tutto il mondo affermano che il cachi è un prodotto molto efficace che promuove una rapida perdita di peso Nonostante il cachi sia un frutto piuttosto dolce, ha un basso contenuto calorico e oggi le diete con l'inclusione dei cachi nella dieta quotidiana sono diventate molto popolari E tutto grazie al fatto che questo prodotto è in grado di saturare il corpo in breve tempo Naturalmente, seguendo una tale dieta, dovresti mangiare bene e condurre uno stile di vita sano Migliora il lavoro del tratto gastrointestinale I medici raccomandano vivamente l'uso di questo prodotto nell'indigestione in varie malattie dello stomaco Con l'aiuto del decotto di cachi puoi curare anche la diarrea cronica Per preparare la bevanda devi versare 6 frutti maturi con 3 bicchieri di acqua bollente Quindi lasciare in infusione il brodo per 20 minuti Nella fase finale è necessario filtrare il rimedio con un filtro È necessario utilizzare 500 grammi di infusione ogni 4 ore Rafforza il sistema cardiovascolare I cachi contengono grandi quantità di potassio, glucosio e fruttosio Questo ha un effetto molto positivo sul sistema cardiovascolare I medici raccomandano caldamente di mangiare cachi alle persone che soffrono di ipertensione Colpisce positivamente il sistema nervoso Il cachi ha proprietà atoniche È molto utile utilizzare questo prodotto per i colori che soffrono di disturbi del sonno Il cachi ha proprietà atoniche È molto utile utilizzare questo prodotto per i colori che soffrono di disturbi del sonno Il cachi ha proprietà atoniche